Purtroppo il passo è stato molto lungo e molto atteso, però quello che eroici perché gli spettacoli che vedrete sono i sopravvissuti di una stagione molto più ricca, però quelli che perderete li vedrete nella prossima stagione, invernale, insomma, autunno, eccetera. E poi perché eroici siamo stati nel teatro abbiamo cercato di mantenere la vita sotto il ghiaccio del sipario chiuso e quindi voi praticamente noi abbiamo mandato in prova tutte le compagnie, anche quelle che debutteranno a dicembre, abbiamo fatto un grande lavoro in streaming soprattutto con le scuole perché che funzione ha il teatro a sipario chiuso? Come può fare essere il grillo parlante della sua società? Ci siamo fatti voce soprattutto delle parole dei nostri giovani cittadini che sono secondo me i più colpiti da questo isolamento sociale, proprio i liceali. Grazie ai professori abbiamo raccolto tutti i loro scritti, centinaia che rimarrà un documento veramente nella storia e li abbiamo fatti mettere in scena dai nostri allievi della scuola di recitazione e professioni della scena. Li abbiamo mandati online e sarà uno spettacolo di quest'estate, l'ultimo che chiuderà la stagione estiva. Quindi diciamo che non ci siamo fermati un momento. Qual è il programma di questa stagione eroica? Allora intanto manteniamo la nostra linea che è quella di dar forza ai giovani e di parlare anche del territorio. Per cui debutterà a Palazzo Steri, noi avremo tre siti, uno Palazzo Steri in collaborazione con l'università che come sapete con la quale abbiamo fatto questo primo corso di laurea in recitazione e professioni della scena. Sarà in omaggio a Bufalino, cento anni dalla nascita. L'università ha ritrovato la tesi dello scrittore e noi debutteremo con A noi due, che è un testo tratto dalle menzogne della notte, dal romanzo, con la regia di una giovane siciliana che è Giulia Randazzo, che ormai si è fatta conoscere nel mondo con una compagnia straordinaria, dove c'è un esperimento, avranno tutti le cuffie gli spettatori, perché ci sarà un coinvolgimento sonoro come di entrare nell'animo di questa scella dei condannati a morte, infatti Palazzo Steri era il luogo giusto, come sapete è stato Palazzo dell'Inquisizione. Poi il misantropo di Molière, che finalmente debutta dopo sette mesi, la regia di Fabrizio Falco, altre giovane siciliano che anche lui costretto all'esilio, ma che è tornato a casa con una compagnia di giovanissimi. Ci spostiamo poi a Palazzo Riso della regione Sicilia con Bengala Palermo, che parla di una nuova Palermo, della Palermo di oggi e quindi di tante seconde generazioni, soprattutto che di origine, diciamo, indiana-bengalese. Un testo che è stato scritto da Daniela Morelli in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, abbiamo raccolto mesi di interviste, ne è venuto un musical con le musiche straordinarie di Incudine. E poi ci saranno due repliche dedicate a Sciascia, la Sicilia come metafora, sempre con le musiche di Incudine, che debutterà però a Palazzo dei Normanni col Presidente della Repubblica l'11 di giugno. E poi saremo finalmente a Casa Professa con Viva la Vita, che è lo spettacolo su Frida Kahlo, che è già stato annunciato e il pubblico ha già comprato per due volte i biglietti, quindi finalmente se lo potrà godere. Finiremo proprio con i nostri ragazzi, squarci d'autore, fatto dai nostri allievi sugli iscritti dei licei, ma questo in particolare, questo squarci d'autore, sarà tratto proprio dagli iscritti, in particolare degli studenti di Partinico.